Il progetto è nato proprio per censire il numero di, non tanto di esemplari, ma di nidi che sono presenti all'interno della città di Fano. Questo in collaborazione chiaramente con il Comune e con il Centro di Educazione Ambientale di Casa Archilei. E come riconoscerli? Allora potremmo riconoscere sia gli animali durante il volo, ma in modo più semplice i nidi. Quindi se trovate sotto il tetto delle vostre case un nido fatto ai glù con un piccolo foro d'ingresso, quello lì è il nido del cugino della rondine che si chiama Balestruccio. Se invece trovate sotto una tettoia o addirittura anche sotto i ponti un nido fatto a coppa, attaccato a queste strutture, in quel caso è la vera rondine. E l'ultimo che ci siamo è il rondone, che invece non è parente delle rondini, anche se gli assomiglia, ed è un animale che invece va ad edificare sotto i coppi del tetto. Ed è quello forse più difficile da osservare. Riuscirete a riconoscerli anche grazie ai volantini che noi abbiamo realizzato proprio per l'identificazione. Questo è un progetto di Citizen Science, cioè praticamente le persone che non sono esperte nella questione ornitologica possono partecipare a un censimento degli animali selvatici. Come si può fare? In un modo semplicissimo, nel volantino che noi abbiamo realizzato c'è scritto tutta una serie di numeri di telefono e un'email dove le persone dovranno indicare il numero di nidi, dove sono posizionati, se possibile la via, in modo tale che noi poi faremo una cartina dove sono posizionati e la via, insomma.